Ciao a tutti e benvenuti nella casa del giocattolo. Oggi andremo ad aprire 5 bustine degli Zomlings serie 4, Zomlings in the Town. Allora, queste bustine si trovano in edicola al costo di 70 centesimi, quindi hanno un costo relativamente basso. Ho notato che stanno diventando di difficile riperibilità ultimamente, quindi se vi interessano recatevi in edicola prima che vengano esauriti. Procediamo all'apertura delle nostre bustine, poi vi farò vedere gli Zomlings che erano già in mio possesso. Partiamo all'apertura della prima bustina. Ecco qui. Andiamo a vedere prima di tutto il libretto. Con lo qua si vedono gli Zomlings con i loro veicoli. Ci sono anche questi presenti in edicola al costo di 1,50 euro a differenza dei 70 centesimi delle bustine, però trovate un veicolo e anche uno Zomlings e potete anche trovare gli ultra rari dorati. Allora, mettiamo da parte il libretto e andiamo a vedere il primo Zomlings che abbiamo trovato. Sono fosforescenti, questi della quarta serie. Allora, sembrerebbe una sorta di coccodrillo pirata. Sì, è proprio un coccodrillo pirata con i capelli biondi e la barba. Bellissimo questo colore fosforescente. Rispetto alle altre serie che erano colorate in modo semplice, questi mi sembrano veramente migliori. Andiamo ad aprire subito la seconda bustina. Allora, andiamo a vedere. Il libretto sarà sicuramente lo stesso. Ecco qui, andiamo a controllare per sicurezza. Sì, ci sono i veicoli. Quindi ecco qui il personaggio, anche questo qui. Un bel verde fosforescente. È un topolino zombie che probabilmente sta scappando di casa perché ha questa sacca sulle spalle. Fatto veramente bene anche questo. Davvero carini questi Zomlings della nuova serie. Vedete le cicatrici. Ovviamente, essendo uno zombie, l'orecchia mangiucchiata. Andiamo ad aprire la terza bustina. Ecco qui. Vediamo un altro verde. li sto trovando tutti verdi praticamente. È una sorta di coniglietto con l'orecchia mangiucchiata, la faccia con gli occhi strabuzzanti. Carino anche questo, davvero. Mi spiace solo di trovarli tutti verdi. Mi sarebbe piaciuto trovarli di colori diversi. Vediamo la prossima bustina. Non si apre, ma vedo già che è verde anche questo. No, mi sbagliato. È azzurro. Bellissimo questo. Allora, questo qui non capisco che cosa sia. È un piccolo zombie con la berretta e con un... non lo so. Non si capisce cosa sia, però è per adesso secondo me il più carino tra quelli che abbiamo trovato. Adesso andiamo ad aprire l'ultima bustina. Ecco qua. Arancio. Finalmente un altro colore. Per fortuna nessun doppione. E questa è una mucca zombie. Con le macchie. Gli occhi violacei, ovviamente, essendo uno zombie. Davvero carina anche questa. Gli ultimi due sono quelli che mi sono piaciuti di più. Adesso vi faccio vedere anche quelli che avevo già a disposizione e poi li metteremo tutti insieme. Allora, avevo questa cucinella zombie. Queste delle serie precedenti. Poi questo cinghiale viola zombie. Pieno di cuciture. molto bellino anche questo. Poi una lumaca zombie. Questa è una delle mie preferite perché ha il guscio fatto a teschio. Abbiamo poi un motociclista zombie con il teschio sul giubbotto, una ruota in mano e il casco con le crepe. Probabilmente ha avuto un incidente. E per finire abbiamo questo gattino zombie con il maglioncino. Tutta l'orecchia una con delle cuciture mentre l'altra invece è tutta mangiucchiata. Potremmo metterlo insieme al topolino trovato oggi. E adesso andiamo a vederli tutti insieme di ZOMLINX a nostra disposizione. Eccoli qui. Allora, devo dire che tutti insieme fanno una bellissima figura. Quindi sicuramente prenderò altre bustine. Fatemi sapere se siete interessati a vedere lo sbustamento delle nuove bustine ed eventualmente anche di vedere qualche bustina con anche il veicolo all'interno. Perché sono sicuro che qualcuna riuscirò ancora a reperirla. Fatemelo sapere ovviamente nei commenti. Mettetemi piace se vi è piaciuto il video. Se volete vedere altri video iscrivetevi al canale per essere sicuri di non perdervi. Alla prossima e grazie di aver seguito il video. Ciao a tutti!